Ciao a tutti ragazzi sono Orco Verde, in questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch, un nuovissimo metodo per avere una bicicletta parcheggiata all'interno del garage al posto delle auto. Potrete eseguire questo glitch in una qualsiasi garage, non importa se il garage è con o senza appartamento, il garage dovrà essere pieno e all'interno del garage dovrete avere almeno una bicicletta, ovvero la bicicletta che volete avere nel posto delle auto del garage, poi al primo posto dovrete avere una LG RH8 e al secondo posto un faggio acquistabile a 5000 dollari sul sito Southern San Andreas Superautos.com Poi avrete bisogno di un Cargobob e di due amici e non importa se il Cargobob è stato comprato e chiamato tramite la Pegasus oppure è stato rubato all'aeroporto, il glitch funziona ugualmente. A questo punto dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su Motorcycle Club e dovrete fondare una Motorcycle Club. Quando sarete presidente del Motorcycle Club dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su Presidente del Motorcycle Club, trova Prospect e dovrete invitare i due amici che vi aiutano ad eseguire i le mani glitch. I vostri amici dovranno accettare l'invito perciò unirsi al vostro Motorcycle Club. Una volta fatto ciò dovrete aprire il menu interazione, dovrete andare su Veicoli e sull'opzione Accesso al Veicolo dovrete impostare Amici. Fatto ciò dovrete entrare nelle garage, dovrete salire sull'auto che si trova al primo posto ovvero la LG RH8 e dovrete uscire dal garage. Quando sarete usciti dal garage un vostro amico dovrà salire al posto di guida della vostra LG RH8, mentre l'altro amico dovrà guidare il Cargobob e agganciare col Cargobob la LG RH8 con sopra il vostro amico al posto di guida. A questo punto voi che starete effettuando il money glitch dovrete avvicinarvi al garage dove starete eseguendo il money glitch, dovrete aprire meno interazione, dovrete andare su Presidente del Motorcycle Club e dovrete rimanere fermi se l'opzione manda il tuo veicolo al deposito. Quando starete fermi su questa opzione l'amico che sta guidando il Cargobob sempre tenendo agganciata la vostra LG RH8 dovrà volare più in alto. Quando volerà più in alto a voi cambierà automaticamente l'opzione in richiedi moto. Quando sarà cambiata l'opzione e ci sarà l'opzione richiedi moto dovrete velocemente selezionare e confermare il faggio che si trova all'interno del garage dove starete eseguendo il money glitch. Fatto ciò velocemente dovrete entrare all'interno del garage, dovrete salire sulla bicicletta che volete avere nel garage al posto delle auto e dovrete uscire dal garage. Quando sarete usciti dal garage con la bicicletta l'amico che sta guidando il Cargobob dovrà premere la freccia destra per sganciare la LG RH8 con sopra l'altro amico. A questo punto l'amico che si trova nella LG RH8 dovrà atterrare senza esplodere. Quando l'amico che si trova nella LG sarà atterrato sarà automaticamente cacciato fuori dalla LG. Quando l'amico sarà stato cacciato fuori dalla LG dovrete entrare all'interno del garage con la bicicletta e se il glitch starà uscendo correttamente quando entrerete nel garage non vi uscirà nessuna schermata con scritto garage pieno. E quando sarete entrati nel garage se il glitch avrà funzionato correttamente avrete la bicicletta nel garage al posto delle auto. Potrete fare questo glitch con più biciclette e soprattutto con qualsiasi bicicletta. E niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice all in su un commento iscrivetevi al canale condividete il video e da Orkover tutto noi ci vediamo al prossimo video bella.